Per l'Italia del tennis. È prevista una Coppa Davis-Pepata. A Bologna la prossima settimana. Tra le defezioni di Matteo Berrettini e Genick Sinner e l'esclusione Fabio Fognini. Repubblica Sport Tennis 20.230.906 News Genick Sinner in un cuncunciate 413.535.308 solo quest'ultimo. Uno dei veterani. Ha esternalizzato i suoi pensieri meglio essere odiati perciò sei. Che essere amato per quello non sei. Per essere onesti incazzati quel falso sorridente. Ha commentato ulteriormente specificando inoltre specificando in tempi insospettati. Nonostante ciò è stato trapelato. Ho comunicato il mio desiderio di far parte del gruppo per Bologna. Mi rendeva disponibile al. Capitano. Nel frattempo ha chiesto a Meto giocare a doppio con gli altri compagni di squadra nazionale. Ho prontamente fatto e per tenermi addestrato sul pezzo. E così l'ho fatto lo sto facendo. Oggi più mai voglio ancora attaccare la classifica ATP. Vincere età dolore. Settimana fa ero prie riempimento questa cosa mi ha reso ancora una volta felice e orgoglioso. Ma lunedì. Mentre ero a Genova. Ricevuto la chiamata del capitano improvvisamente non torno più ai piani. Senza spiegazioni giustificabili modo che non ho condiviso. Poco rispettoso della mia storia del mio passato blu. Perché fino all'ultimo mi sono stato comunicato che sarei stato in squadra disponibile a scendere. Campo per questo motivo ho deciso di allenarmi suonare il Challenger at Maximum della mia forza di essere pronto disponibile. Mi dispiace di non essere usata a chiarezza e sincerità. La mia storia non se lo merita. Many anni sono passati dalla mia prima volta in blu a Montecatini. Nel 2008. Difendere i colori blu e rappresentare mio paese tutto mondo è sempre stata una priorità. Un sogno diventato realtà. Sentire calore del pubblico. Competere in arene affollate con i nostri fan. Anche nel seguente anche viaggi impropri mi ha sempre. Stimolato a dare 110. Sebbene i viaggi fossero difficili e la stagione molto lunga. Con gli obiettivi di classifica essere raggiunto. Non ho mai avuto dei dubbi giocare l'Italia. È la cosa più gratificante del mondo un atleta. Soprattutto me. Ora. Alla vigilia dell'umvdicesima sfida di Davis. Sono. Nonostante me stesso. Fuori dalla squadra chiamatasu. Ho letto su alcuni corpi stampa che avrei deciso richiesto fare passo indietro riposare tirare il. Respiro. Challenger. Prepararsi caricare le partite Bologna. Un contesto storicamente favorevole me. Oltre la superficie effetti sono a pochi chilometri da Haus. Una città a cui sono cresciuto. Ho partecipato a torneo vinto passato. Circondato dall'affetto amici familiari. Breve. Il migliore me questo preciso momento. Eccovo che avrei percepito il calore e l'affetto necessari per arrivare in cima a Bologna. Il riferimento Vondri è al torneo Como. Dove Fognini si era ritirato per un infortunio. Hai bisogno disponibilità tutti. Tutti devono tenerli pronti. Ripetuti volandriali a Bologna. Viene giocato il passaggio per le. Finali Malaga e dovrà avere la meglio su Canada. Cile e Svezzi.